Ciao ragazzi, qui è Ambe e benvenuti in questa nuova serie di Areal. In questa serie ragazzi farò la missione, la storia principale e cercherò di finirla tutta. Ora, sempre se non muoio prima, perché come potete vedere ragazzi si sta disintegrando tutto. Allora, la storia inizia che siamo precipitati con un'astronave in un pianeta e noi logicamente dovremmo scappare da questo pianeta. E durante la nostra avventura ne succederanno tutti i colori. A cominciare da adesso, perché tra poco ci sarà un piccolo spettacolo, possiamo dire una piccola scena che ci sarà adesso. Noi andiamo qua e vediamo che c'è la porta quasi aperta, semi aperta. E se ci accuvacciamo, possiamo vedere degli spari. Perché ragazzi, adesso vi faccio vedere perché ci sono questi spari. Adesso, sempre se la porta si decidesse a... ecco, e ta 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 ta... Questo ragazzi può essere... questo gioco è vecchio, però è di un violento che è neanche Mortal Kombat ragazzi. Ok, allora, abbiamo avuto la nostra prima arma, che è questa, e che sarà la più potente del gioco. Ma per il momento è l'arma più debole perché bisogna potenziarla. E vi dico ragazzi che quando sarà all'ultimo stadio, quest'arma sarà la più potente di qualsiasi altra arma. Bene, abbiamo finito il primo livello. Ci possiamo anche buttare. Ed eccoci con il livello 2. Che praticamente noi usciamo e diciamo un wow a questo mondo. Un wow a tutto il mondo. E qua c'è la nostra bella astronave, mezza disintegrata. E prima di andare avanti ragazzi, andiamo qua, perché ce dobbiamo un attimo potenziare. Perché a parte potenziare che c'è la seconda arma del gioco, che sarebbe la pistola. E in più, questi neon, che faranno luce. Faranno luce nei luoghi bui. Per adesso, perché dopo, un po' più avanti, prenderemo la torcia. Ma dopo sarà più difficile perché bisogna trovare le pile. E non è facile ragazzi. Ok, allora. Dopo aver so... Dopo aver so... Dopo aver so... Perché non riesco a parlare oggi? Vabbè, comunque. Dopo aver... Oltrepassato il burrone. Dobbiamo entrare qui dentro e... Tuk! Chi ha lanciato questo coso? Aiuto! E qui ci saranno i primi nemici. Meglio sparare alla distanza ragazzi, perché questi sono pericolosi, che è una roba allucinante, come avete visto. Che mi laggano il gioco. Ok. Andiamo avanti. Ok. Spariamo queste casse, che non c'è niente, tra l'altro. E saliamo qua. Saliamo ancora, che dovremo raggiungere una postazione alta. Eccoci qua per la postazione alta. Prendiamo... Le ultime munizioni e ci prendiamo questa pianta, che ci dà un po' di energia. Non è tanta, ma... Non è tanta, ma... Oh, che salto. Dai, salta ancora. E niente ragazzi. Bene, anche... Anzi, prima volevo vedere che cosa c'è qua. Perché mi incuriosisce questa cosa. Un'area segreta. Un'area segreta che ho scoperto adesso, in questo preciso momento. E... Uh, guarda cosa c'è qua. Niente, adesso possiamo andare per il livello 3. Ci buttiamo, tanto non ci facciamo niente. E... Ok. Fatto. Ora, ragazzi, salviamo perché sarà molto importante salvare in questo gioco. Anche se non ce lo dice, è meglio salvare lo stesso. Allora, aia, perché mi deve sparare quando sono a 30 centimetri da lui? Ok, allora, aspettiamo che scenda. Forza, però. Caricatori. E qua ci sarà un nuovo nemico, ovvero questa pianta che... Dai, eliminiamo a... A... Raffica di plasma. Bene, ora, andiamo di qua perché è obbligatorio seguire questo corridoio. Un'altra pianta. L'ho vista l'ultimo secondo, ragazzi, perché... Altrimenti mi... Avrebbe già punto. Bene, e qua dovremo solamente premere questi due pulsanti. Niente di più facile. E se è spento tutto. Quindi, adesso... Dobbiamo ritornare indietro e... E andare... No. No. Si stanno spegnendo le luci. Ragazzi, non si vede niente. Io... Cos'è questo rumore? Merda. Era un'imboscata. Ok. Però, devo dire che... Non è male l'idea di fare una roba del genere. Perché, ragazzi, non c'è solo questo... Ok. Eh... Non si vede più niente perché non... Ok. Comunque ci saranno altre sorprese ancora più... Più bella. Quella è niente a confronto. Ok. Allora, ci diamo questo a furia di plasmate. Se si decidesse... Ok. Usiamo la pistola. Adesso. Che questo qua si deve un attimo caricare. Usiamo la pistola e ammazziamo questo. Aia. Ok. Andiamo avanti. Sempre con questo terremoto, ragazzi, che... Non ne so perché ci sia ogni volta. No, proprio adesso ti devi mettere a caricare. Ave. Bene. Allora, prima che farlo fuori, prendiamo questi caricatori e poi andiamo a fare la nostra bella combo. Ok. Finito. Andiamo di qua, prendiamo questi che è titanio, mi sembra... Sì. È titanio. E... E qui mi sembra che ce ne siano due. Ecco. Una è là. È caduta nella lava. Perché, ragazzi, c'è la lava qua. Accidenti. Ok. Qua mi sembra che non ci sia niente. E invece no, c'è qualcosa. 50 bullets. Aia. Sta crollando tutto. Non è un buon segno. Prendiamo questi caricatori. Aia. Altro nemico. Vediamo se riesco a... Perché se si avvicina qua, posso farlo esplodere. Però è vero che non è... Non è ne vuole sapere. E neanche... La pistola. Ok. Prendiamo questo altro pezzo. Spariamo questo pulsante che ci porterà avanti. Questa trave, possiamo dire. Aia. Ok. Siamo in questa grotta. In una miniera piena di diamanti, possiamo dire. E ecco, ho finito il caricatore. E non ho voglia di stare lì a caricare. Quindi uso questa pistola. Sempre se è una pistola al plasma. Ok. Dov'è che si va? Di qua mi sembra. Quindi spariamo. E infatti, di qua. L'agga. Spariamo, 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 spariamo. Ok. Dopo. Un'altra cosa ganza è... Girare questa leva e, magicamente, appariranno questi triangoli che bisognerà premerli man mano. Ok. E con il nemico... Che ave... Si. Aprono le porte con il... Nel nemico dietro che ci stava aspettando. Ho finito le munizioni. Anche. Perché questi non... Non stanno fermi. Vabbè, com'è logico. Oh. Andiamo avanti. Pianta. Due. Però non è... Hanno molta mira. Se sei a... Debita a distanza. Ora saliamo di qua. Oh, bene. Abbiamo la elettrocintura. E abbiamo il minigun. C'è una specie di minigun al titanio. Che fa un bordello di danni, ma con nemici più piccoli. E qua mi sembra che si esce. E no. Non ne si esce affatto. Spariamo qua. Che... Dobbiamo per forza passare. E qua che cosa c'è? Ah, altri nemici. Dai. Oh, ma... Ma li schiva e lagga. Schiva e lagga. Non ne vanno bene insieme. Qua cosa c'è? Ah, un nemico. Ma... Ah, ah, ecco mi sembrava. Giriamo qui. Spacchiamo questo che ci porterà aia. Munizione. Olè. Sembra tipo una giostra. Non ne so se... Ora, se questo si decidesse sempre aia. Ma chi è a? La pianta. Che si mimetizza bene. Aia. Lagga. Non va bene. Non va bene se lagga così. Perché è tremendamente ingiocabile. Ok. Sì, però non... Allora. Aspetta. Aspetta. Perché c'è questo. Iia. Ok. E' morto. Fammi vedere la tua roba sana. Cosa? Ah. Corazza. Grazie. Questo ragazzi è... Un... Un halo. Che... Che ci darà dei bonus. Come ad esempio... La corazza... Nuove munizioni. Armi. E eccetera eccetera. Anche nuove armi. Qua mi sembra che devo scendere. Infatti. Allora. Qua sarà la parte più difficile. Infatti perché... Se non uccido questo primo... È logico. Perché qua... Guardate. Io vado... Io vado... Io faccio di così. Cade. Visto? Le travi cadono. E dopo sarà un casino. Ritornare su. Aia. Senza cadere nella lava magari. Che ne dici? Buttalo giù. Bene. Lo abbiamo buttato? No. Perché mi sono buttato anch'io? Non si fanno queste cose. Bene. E qua mi sembra che ci sia un altro. Che ci porta... Che... Ecco. E... Guardate adesso... Ha quest'arma ragazzi. Guardate. Questo è il potenziamento e... Ce l'ha potenziato un attimo. Adesso qua come faccio? Beh è facile. Si fa così. E questa sarà adesso... Un po' più potente. Aia. Mi ha sbucato fuori... In piena faccia. Non va bene. Beh allora ragazzi. Spero che... Questa... Che... Questa serie vi piace. Quindi... La prima parte finisce qui. Infatti adesso salvo. Ok ragazzi. Anche per... La prima parte di Arral è finita. Vi ricordo di mettere un bel mi piace. Di commentare il video. Scrocchiaggio alle dita. Per concludere. E... Vi aspetto con... La prossima parte di Arral. Ciao.